Bene, signora, apra la bocca Un po' di più Signora, un altro po' di più Ehi, ancora? Maine, che lo sanno tutti in paese Che lei la bocca la sa aprire molto più di così Io? Ehi, come? Oh, mo la riconosco Allora, dunque Luigi, che è successo? Un incidente è fatto? No, che incidente? E che è successo? Ho lasciato aperto Facebook Ah, cambia la passo Così, fai un'uscita Cambia la passo Vieni di qua, basta che ormai Signora, signora Ormai ho letto Signora, madonna, santa No, no, dottore Che è successo a questo? Ho lasciato aperto Whatsapp Whatsapp? Whatsapp adesso deve andare Che cosa è oggi? Però, c'è Dico io State attenti Un po' di sorveglia Ma, va, va Che è successo a lei? Instagram Instagram ma sinistra Ah, diciamo Vado, fammi cambiare la password Guarda, no E sono scemo Allora Mi diverte Ma, va bene Ecco Ma che capottiamo, eh E allora, signora? Cioè, rifanno sbagliare Rifanno, non sono di misura Che ho visto Che cazzo Allora Apre la bocca Ma, no, dottore Che soddisfazione E che ho detto? Apre la bocca Tutti mi dicono di chiuderla Mi marito E zitta Chiudi la bocca, va bene Vado a dirlo qui con mia madre Zitta, non parlare, chiudi la bocca I miei figli Chiudi la bocca, basta zitta Chiudi la bocca, non parlare Eh, no, eh Signor, qua c'è un problema Ma, mi faccia capire Quante volte lei fa sesso? Vado, dottore Io faccio sesso Due, tre volte al giorno Tutti i giorni Vado, pure il weekend? Pure il weekend Dalle lunedì alla domenica Eh, ma no Signor, si dia una regolata Almeno la domenica La faccio riposare No, dottore E la domenica Non posso È l'unico giorno Che mio marito sta a casa C'è giudici a cu Tante, dottore Beh, hai fatto? Ho fatto, ho fatto Che c'è sta strano? Non sei soddisfatta? No, no, no Non sono soddisfatta Eh beh Vado, sai cos'è? Questo fatto che un giraecologo Ti deve vedere nuda Senza un cena Ma una cena Due cioccolatini Eh, questo fatto Deve finire E dobbiamo pure pagare Eh Non sono più Le ho nudi una volta Sì Capisce niente Stai fatti Stai fatti in bianco e nero Ma Dottore, la paziente è pronta? Mamma mia Ma sta Eh, vabbè vada Chiudi Chiudi tutto Chiudi la chiave Arrivo Sono pronta Sono tosto Allora Eccoci qua Va bene Diciamo che non si tratta di imbarazzo Capisco È anche Normale Essere eccitati Durante una visita ginecologica Ecco Dottore Ma io non sono eccitata Parlavo di me Quindi stai tranquillo Stai tranquillo Dottoruccio Dai, forza Non ci si abitua mai Vedi, certe volte